Alle mie spalle il map composto da quattro appartamenti che grazie alle immagini di Donatello Ricci possiamo vedere. Ieri ha preso fuoco, è stato tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, ma purtroppo i danni sono ingenti. Per fortuna non era abitato. Ovviamente il locale ora è stato sottoposto a sequestro da parte della questura dell'Aquila, ma in realtà non è questo map il problema. Tutta l'area circostante, ci sono altri map disabitati, è nel degrado più assoluto e siccome ci sono comunque dei residenti ancora in altre strutture molto preoccupati di questa situazione, si chiede davvero un intervento. Alcuni mappe di San Gregorio, come è noto ce ne siamo già occupati con Reteotto, sono interessati dal programma di dismissione, quindi demolizione da parte del Comune, però è chiaro che i residenti chiedono chiarezza, chiedono maggiori controlli perché spesso anche sacche di micro criminalità si vanno ad insinuare in questi appartamenti ormai lasciati all'abbandono completo. Per i map di San Gregorio non c'è pace. Ieri mattina l'ennesimo incendio, i danni della struttura e il legno. Incendio subito domato dai vigili del fuoco, ma la struttura è stata irrimediabilmente danneggiata, dovrà essere dismessa. Proprio pochi giorni fa il Comune aveva iniziato la demolizione di un altro map, colpito anche quello da un altro incendio nel 2019. Sono stati residenti ieri a chiamare a causa della puzza di fumo sentita e sono molto preoccupati perché anche alla polizia giunta sul posto hanno raccontato di rumori strani provenire dai map. Peraltro la porta della struttura sarebbe stata trovata aperta. Sicuramente ci sarà un'indagine in tal senso e la polizia sta acquisendo testimonianze. Anche nel 2019 l'incendio partì da un map vuoto. Il consigliere Paolo Romano da anni segue l'evoluzione della questione. Sono anni, secondo i consiglieri Romano e Lorenzo Rotellini, che i cittadini devono sopportare il degrado della zona. Al Comune attaccano, ci sono voluti 5 anni per iniziare la demolizione. Tra l'altro si parla anche di appartamenti usati come ricoveri di fortuna o magazzini di merci rubate. Sicuramente però, da quello che si vede dalle immagini, non è una situazione dignitosa. La popolazione è veramente preoccupata del degrado della zona. Oltre alla questione degli incendi dei map, molti map sono rimasti aperti, ci sono incursioni tutti quanti i giorni. C'è proprio incuria da parte del Comune sulla zona dei map di San Gregorio. Poco tempo fa, in una quinta commissione richiesta da me e dal consigliere Romano, di una commissione di vigilanza, analizzammo proprio la questione dei map, soprattutto quelli di Onna, ma poi per fare un rapido giro su tutti quanti i map del comprensorio aquilano, iniziando a segnalare le situazioni di degrado e partire con le demolizioni, che sono iniziate nei mesi scorsi con anni di ritardo.